Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Brothers a Tale of Two Sons. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto questa costruzione sul cuzzolo di una montagna, dovevamo attraversare il ponte qui ma è crollato, quindi dovremmo trovare una strada alternativa. Intanto entriamo qui, visto che c'è una porta aperta. Wow, è tutto enorme? E lì c'è un uccellino intrappolato. Ma com'è che è tutto così grande? Ottio, dove siamo capitati? Ho capito, ma dove siamo? Non è che siamo arrivati nella casa di qualche gigante? Allora, qua mi sembra che non ci sia nulla. Aspetta, posso salire sui libri? Sì. Di qua? Forse? Sì, 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 sì. Uh! Ok, niente. Poverino, ma cos'è sangue? No, poverino! C'ha tutto sangue intorno. Vediamo se si può fare qualcosa. Ah! Questa è una candela, forse quella che vedevamo con il binocolo. Questi sono degli studi sugli uccelli, invece. Qua si può fare qualcosa? Il piccolo non può passare di qua. No? Ah! Che posso fare? Eh, ho capito! Ma... Ah, ecco, infatti! Mi sa che qua devo arrampicarmi. Uno e due. No! Ah! Stavo cadendo. E qua devo scendere. Ah, questa! Eh, ma non ce la fa! Arrivo, 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 ho capito! Ho capito, arrivo! Arrivo! Ma... Sembra tipo una civetta. Ma con delle zampe strane. Che cos'è? Un piccolo grifone. Che carino! Sembra tipo un piccolo grifone. Quelli in croci tra leone, aquila... Civetta, forse. Molto carino! Ma è tutto ferito, povero. È pieno di sangue, poverino. Ci facciamo trasportare da lui! Fortissimo! Wow! Wow! Ah, ok! Quindi praticamente è come se avessimo attraversato il ponte. Siamo riusciti ad arrivare dall'altra parte. No! No! No, non ce l'ho fatta! Povero! Povero! La piuma gli ha fatto tornare in mente quando pescava con il padre. Va bene. Ma mi dispiace. Posso fare qualcosa con la piuma, forse? No! Eh, sono tristi! Povero! Beh, era troppo ferito, effettivamente. Con la piuma? No, non so perché posso prendere la piuma. E qua non c'è altro, non si può passare. E allora proseguiamo. Andiamo! Allora! ma c'è stato un incendio qua mi sembra di vedere tutto bruciato perché c'è che cosa ok sì ma sono giganti questi morti una battaglia più che battaglia si sono massacrati ah ecco perché abbiamo trovato quella stanza con tutti quei mobili enormi era di un gigante non è che magari quella fortezza quella specie di ponte con le torri forse apparteneva a una struttura più grande costruita dai giganti una fortezza oddio no vabbè ma dai è morto cosa pretendi che ambientazioni tetre però adesso aspetta qua bisogna fare qualcosa mi sa sì aspetta ok ce la facciamo sì con la spada nulla oddio che schifo però oddio c'è anche l'avvoltoio che si sta mangiando la carne no veramente dobbiamo passare di qua eh infatti sì no però non so quanto sia sicuro cadere dalla cascata ah no ma è bassa l'acqua no non è bassa prendilo 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 ok ce l'abbiamo fatta salve ci sono due avvoltoio che ci guardano ah dunque si può salire aspetta si può salire sia di lì che di qua proviamo ad andare di qua ah no ma di qua non faccio nulla no non ci arrivano ah no ok ho capito ho capito eh infatti prima facciamo salire il piccolo adesso però lui il grande non può salire lui non si può allontanare eh no esatto non si può allontanare proviamo ad andare di qua non è che magari posso tipo no aspetta 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 ah ok così e adesso andiamo insieme da questa parte questo mi sa che dobbiamo spostarlo invece come facciamo però ah così perfetto abbiamo fatto cadere un cadavere enorme oh dio no ancora che schifo ah vediamola devo salire di là altrimenti no di qua non posso passare ah ok questo non si sposta è troppo pesante e allora saliamo di qua ma c'è qualcosa là sotto che cos'è non si sa ah ma dove vado ah di qua forse no dove vado io ehm acqua questo allora questo lo spostiamo forza 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 pesantissimo oddio no abbiamo tagliato la gamba ma che cosa macabra oddio veramente questa parte è terribile oh qua c'è una panchina proviamo a sederci eh sì che c'è qualcosa là sotto ma non capisco cosa allora di qua no anche questo non si può no non dirmi che devo tagliare pure questo braccio no perché mi rifiuto no forse si può passare di qua tranquillamente sì allora proviamo andare di qua oh questo il richiamo dei giganti ci hanno risposto forse non è stata una buona idea no questa volta non ci hanno risposto ok non vorrei aver chiamato aiuto di solito sono i corni che si usano per chiamare rinforzi non vorrei aver chiamato qualcuno speriamo di no oddio che spavento vediamo qua c'è qualcosa sì ah dobbiamo caricare la balestra no non dirmi che devo trafiggere quel gigante là no non parte ah perché c'è questa oh dio che schifo che c'è non si sa discutono fra di loro andiamo adesso possiamo passare per lo meno abbiamo tagliato gambe trafitto teste ma almeno possiamo proseguire che comunque credo sia anche abbastanza recente la guerra perché i cadaveri sembrano abbastanza freschi sta nevicando sta cominciando a nevicare e là c'è gente là c'è qualcuno no no oh dio una cascata di sangue no si sono sporcati tutti eh infatti speriamo di trovare un fiume qualcosa dove lavarci qua c'è un pentolone nulla ci sono delle strane incisioni sui muri ah intanto lasciamo le impronte di sangue ah benissimo ci siamo lavati e siamo arrivati credo in una zona abbastanza alta perché sta nevicando oddio oh mi sa tanto che questo è un sacrificio mi sa tanto che stanno facendo un sacrificio che sia tipo una tribù di qualche tipo ok dobbiamo fare qualcosa mi sa che sia tipo una tribù primitiva questa forse ci conviene fare piano per non farci scoprire no di qua non si scende di qua di qua nulla di qua eh ma siamo già arrivati qua però non è che ci vedano un tipo wow 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 veloci 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 no no mi hanno ucciso il piccolo mi hanno ucciso il piccolo maledetti forse dividiamoci forse uno lo distrae l'altro va no mi uccidono sempre il piccolo mi uccidono mi uccidono sempre mi uccidono sempre il piccolo aspetta 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 dove è andato eccolo qua ma ci hanno già visto no vabbè ma mi uccidono sempre no eh non è che tipo devo riempirmi di sangue vediamo no dai 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 ce la facciamo ce la facciamo no che cosa aspetta arrivo no maledizione no o sbaglio qualcosa allora rimacchiamoci col sangue questo che cos'è ahà che cosa ah ok ah ah no ho capito perché questo dovrebbe essere tipo il loro dio non è che adesso ci scambiano per una divinità aspetta forse ho capito no veramente no ci hanno scambiato per una divinità grazie ce la prendiamo noi questa eh eh però adesso ci hanno scoperto eh vabbè ma scappiamo scappiamo via veloci veloci oh bene ce l'abbiamo fatta cosa aspetta ma un grazie no eh ah ok lei sa dov'è e c'è una barca va bene possiamo andare in barca wow wow aspetta 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 come si fa così ok ok oddio qua è difficilissimo no è difficilissimo aspetta mi sono già bloccata non va avanti non va non va maledizione mi sono perché no no qua non andiamo più avanti aspetta con calma con calma allora adesso soltanto lui per girare forza gira 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 maledizione ok questa non è affatto facile qui c'è ancora del sangue ah è la cascata di prima allora adesso solo col piccolo per girare così certo che dobbiamo essere arrivati veramente molto in alto per trovare la neve insomma un po' più di là che che cos'è quella cosa oh ti ho visto passare qualcosa sott'acqua forza wow bellissime sono tipo delle orche ma molto molto strane questa cosa mi inquieta però sapere che c'è qualcosa sott'acqua non mi tranquillizza per niente magari stiamo vicini al bordo del ghiaccio ma non posso tipo scendere qua mi sa di no aspetta solo col più grande ma sbaglio o ci stanno seguendo no no veloci veloci no ah 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 è pericoloso abbiamo capito che è molto molto pericoloso via 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 forza ma dove dobbiamo scendere proviamo andare di qua veloce aspetta che mi sono incastrata vai ah mi sa che dobbiamo andare là in fondo ho visto ok fermo fermo veloci via 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 no no ma l'inizione qua no ah no ce l'abbiamo fatta siamo ancora vivi siamo ancora vivi svelti dove là in fondo va bene belle però veramente veramente molto belle eh ho capito che dobbiamo andare là però non mi gira la barca se non mi gira la barca non andiamo da nessuna parte così bravo ops aspetta aspetta mi sono incastrata beh ce la fate a scendere no proseguiamo uh uh si scivola si scivola si scivola aspetta 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 oddio si scivola di qua uh no 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 ah non posso fermarmi se mi fermo cadono forza ce la fate sì eccoci perfetto qui c'è di nuovo la neve no che cos'è no una tartarughina povero aspetta aspetta e qua ce n'è un'altra aspetta di qua ah la tipa la tipa è andata di là non aspetta no ma che cosa sta succedendo qua che cosa ah ho capito devo prendere le tartarughine mi sa che devo riportargliele alla mamma può essere sì mi sa proprio di sì va bene io direi comunque che possiamo firmarci qua con questo episodio vedremo di salvare queste povere tartarughe nella prossima parte quindi ci vediamo qua lasciate un piaccio con un commento se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti